Amici di contatto subito dopo la loro inaugurazione ritorniamo alla dolce vita di Arzano Questa sera ospiti direttamente da Made in Sud, i due per duo e Lello Musella Quindi restate con noi e occhio alle immagini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Lui è pronto, siamo pronti, lo lasciamo andare, ci salutiamo dito indice e ciao contatto Amici di contatto insieme al proprietario Angelo, ciao Ciao a tutti Tutto bene Innanzitutto congratulazioni per la fantastica riuscita di questa mega serata con gli artisti di Made in Sud, i due per duo e Lello Musella Grazie, grazie espressamente a tutta questa bella gente che ci è venuta a trovare stasera e sta diventando insieme a noi Grazie a voi di contatto che siete sempre qui con noi Io ti ringrazio, grazie mille e poi soprattutto dobbiamo invitare i nostri telespettatori che ci seguono da casa a venire qui perché si mangia bene E in più c'è la programmazione estiva quindi con tanto di spazio aperto e aria per i bambini Anche spazio per i bambini, noi qua lavoriamo soprattutto con le famiglie e ci divertiamo Assolutamente sì, lasciamo allora i contatti per tutte quelle persone che vogliono venirti a trovare Ad Arzano, via Colombo numero 2, dalla rotonda di Arzano semplicissima da arrivare ai semafori a destra e subito siete qui alla Dolce Vita Numero di telefono 08119362950 Per il servizio a domicilio perché la Dolce Vita è caffetteria, lounge bar e pizzeria Soprattutto pizzeria, lavoriamo moltissimo nella pizzeria con la nostra bella pizza Assolutamente sì, Angelo lasciamo anche un sito o una pagina Facebook per tutte quelle persone che sono interessate Il nostro sito è la Dolce Vita lounge.it, invece la pagina Facebook è la Dolce Vita lounge bar, caffetteria e pizzeria L'estate è lunga, finalmente è arrivata e ce l'abbiamo qui alla Dolce Vita Vogliamo sapere la programmazione estiva? Beh, qui c'è la Dolce Vita sotto le stelle, venerdì, sabato e domenica con piano bar e musica dal vivo E poi siamo già in preparazione per un altro evento prima dell'estate e dopo dell'estate Fantastici, fantastici, amici di contatto non vi resta che venire qui Ma soprattutto Angelo vogliamo sapere i vostri orari, i vostri giorni d'apertura e di chiusura se ci sono Noi siamo aperti tutti i giorni e la sera chiudiamo a chiusura, sono le 3, le 4, dipende dalla serata che si svolge qui da noi Perfetto, quindi sono a vostra disposizione completamente? Sì, il sabato solo si preferisce la prenotazione per i tavoli perché ringraziando tutti il sabato qui c'è Pienone Per la bella pizza che facciamo Vi devo fare di nuovo le congratulazioni, lo sai perché? Perché siete aperti da 3 mesi e qui c'è veramente il putiferio Tanta tanta gente C'è gente di Arzano e tutti i comuni qui intorno a noi, grazie a tutti di essere qui con noi Grazie a voi perché siete fantastici nell'organizzazione e nella vostra riuscita per gli eventi Sì, ci mettiamo tutto il nostro impegno nel fare questa attività Questa sera appunto Lello Musella e i duo per due, come mai questa scelta? Abbiamo deciso di far divertire un po' la gente oltre che a farli deliziare con la nostra pizza Fantastico, Angelo grazie mille, io ti ringrazio So che ti devo lasciare andare perché stai lavorando anche tu questa sera per la fantastica riuscita Noi ci salutiamo con il dito indice al mio triccio contatto Uno, due, tre Ciao contatto Ciao contatto Ciao contatto Ciao Contatto! Ciao Contatto! Ciao Contatto! Buonasera, fai un saluto agli amici di contatto. Buonasera, un saluto agli amici di contatto ma soprattutto alle bambole che stanno guardando adesso la trasmissione in questo momento. Ecco, un saluto speciale dai due uomini più sexy di Napoli. No, ve la cavate! Ve la cavate bene, soprattutto nei vostri spettacoli. Siamo ansiosi di assistere appunto qui. Siamo questa sera alla Dolce Vita perché vi state per esibire. Tra un po' prima di noi c'è Lello Musella, un nostro carissimo collega e poi dopo ci esibiamo noi. È la Dolce Vita che è una bellissima struttura e faccio i complimenti ai proprietari. Siete pronti pure per associare la pizza strepitosa che si fa stasera qui? Ma sicuramente! Sapevo che qua c'era una buonissima pizza. Faccio complimenti, a parte la struttura, ma poi c'è un sacco di gente, un bel pubblico, molta gente. Siamo contentissimi di questa cosa e ci fa molto piacere, no? Assolutamente sì! Amici di contatto, vi aspettiamo qui tutte le sere per l'estate con la fantastica programmazione estiva qui alla Dolce Vita. Ma noi ci rivedremo di nuovo a Made in Sud. Si spera a ottobre, sì. Speriamo di sì. Assolutamente sì! Come facciamo noi napoletani a fare a meno di Made in Sud? Anche noi come facciamo adesso a fare a meno del pubblico che ci segue. In sottofondo c'è Lello Musil. Noi facciamo un saluto particolare a contatto a modo nostro. Assolutamente sì! Questo è il nostro contatto. Oddio! Amici di contatto di due per due. Salutiamoci, ciao contatto di tuo indice. Ciao contatto! Amici di contatto, direttamente dalla Dolce Vita abbiamo acquistato un nuovo collega. Ciao, presentati ai nostri telespettatori perché sei il nuovo collega. Ciao, sono Giuseppe. Sono della Dolce Vita, venite in Dandi. Perché c'è lui a farvi le interviste. Bravissima! Sono sempre io. Allora, invitali perché soprattutto in questa programmazione estiva ci saranno tantissimi artisti, tra cui quelli di Made in Sud. Sì, sì. Tanti, tanti. Noi facciamo un'altra festa con tanti altri nomi, altri personaggi. E quindi devono venire anche perché sì? Mangia, mangia molto. Bene, si spenda poco. Abbiamo anche un bel ballista. Ciao bugermo, è un grande. Salutiamoci, dito indice. Ciao, contatto. Ciao, contatto. Ciao, contatto. Ciao, contatto. Amici di Contatto avete visto una delle tante serate per la programmazione estiva qui alla Dolce Vita di Arzano Prima di salutarvi però voglio ricordarvi dove potete continuare a seguire i nostri servizi sul nostro sito www.contattotelevision.it o aggiungeteci sulle nostre pagine Facebook o Contatto Television Napoli 3 o anche 4 o ancora sui nostri canali del digitale terrestre 603 e 693 Dana Gentile è veramente tutto io vi saluto e vi ricordo di restare sempre in contatto